Ciao a tutti appassionati di anime manga, come sempre invito a scrivervi qui su youtube e su instagram e per supportare al meglio il canale mettete like, condividete il video e commentatelo oggi farò la prima impressione di Skip Beat questo nuovo manga edito da Magic Press, volume 1 a prezzo speciale di 2,90€ non so se si riesce a vedere perché è un po' sfocato è sovracoperta, è uno shoujo, per certi versi non so perché, il suo stile di disegno mi ha ricordato molto quello di Miobana cioè l'autrice tra l'altro di La Casa dei Giocattoli, conosciuta in Italia come Rossana non mi ha ricordato molto il suo tratto, devo dire è un classico shoujo essendoci che saranno una quarantina di volumi in Giappone mi sembra se non ero comunque ve lo metterò già nelle schede qua in basso quando monto il video quindi non so se continuano perché 40, 40, passa volumi sono davvero tanti è un casino di serie in corso e voglio vedere più di tutto quanto costa un volume di base perché se già costa qui di 5 euro prenderli tutti la vedo molto dura forse prenderò il secondo giusto per farmi un'idea la storia è niente, è abbastanza semplice parte con la ragazza qua Chioco diciamo che per farne solo in strada scaricata lei è una ragazza più o meno da quello che ho capito sui 16 anni circa anche se non specifica male l'età non ha fatto neanche ha fatto solo le medie ha fatto neanche i superiori è andata da Tokyo perché è un suo amico di infanzia gli ha chiesto se voleva venire con lei questo suo amico di infanzia è ovvio che lei è molto infatuata di questo amico quindi gli ha detto subito di sì questo amico di infanzia il suo sogno è che si chiama shou il suo sogno è di diventare una persona famosa una celebrità dal mondo dello spettacolo fino a un certo punto quando la ragazza scopre che shou l'ha solo usata l'ha usata per ma farlo mantenuto cioè con una casa ospitare una casa fagli da mangiare vitto alloggio fagli le faccende perché lui essendo un figlio di buona famiglia un figlio di papà di buona famiglia che sua famiglia ha cateni di alberghi in tutto il Giappone quindi è sempre stato vizzato non è mai stato capace di fare qualcosa a livello domestico quindi l'ha sfruttata e lei si sente usata ma davvero tanto e invece di prima si incat puntina puntina molto e si sente una bella frase che mi è piaciuta molto che dice lui mi ha usato come un fazzoletto di carta e una volta ha finito mi ha buttato via una frase molto molto forte che è il senso di questo manga alla fine che lei parte per la vendetta cioè diventare di sconfiggere nel mondo dello spettacolo diventare molto ma molto più famosa di lui lei non ha però nessuna abilità a livello dello spettacolo né come cantante attrice durante gli visibanzi manco gli interessa lei vuole solo esclusivamente vendicarsi però la sua tenazia colpisce molto in particolare un direttore di una casa di produzione e e resta molto molto colpito diciamo così poi il manga finisce ovviamente si capisce che va avanti con questa storia non è che finisce lì lei ha tanta tanta tenacia fa certi espressi soprattutto quando pensa a lui perché ha ancora un po' di battuta tra il fatto che gli piaceva e probabilmente gli piaceva ancora ma il fatto ma poi ripensa subito a pochi secondi a quello che gli ha fatto e si arrabbia ancora di più non ci sono solo loro due c'è anche un altro diciamo coprotagonista che è il rivale di Shaw a livello di immagine di popolarità perché è il primo del Giappone a livello di popolarità che è della stessa casa produttrice di cui Kyoko prova a entrare quindi probabilmente vedo un triangolo vedendo comunque uno shoujo però scendendo 40 volumi incentrati su questo sono davvero tanti cioè sviluppare una storia alla fine che è abbastanza semplice come storia lei che tenta di entrare nel mondo dello spettacolo pur non avendo qualità che deve imparare e migliorarsi per diventare numero uno del Giappone però ripeto sono davvero tanti non lo so il manga è carino si lascia a leggere però è bello grosso 2 euro 90 va bene tutto però 40 sono davvero tanti e non è ancora finito non ho idea neanche di quanti ne saranno quindi boh perché alla fine è solo un manga sentimentale vedrò se lo vedete ancora nei miei video acquisti voglio dire che lo sto continuando se no comunque è il primo manga della Magic Press il prossimo indovinate quale sarà la Magic Press Redo Filler quando uscirà chi ha visto l'anime sa e sono curioso di vedere se l'anime è fedele al manga o l'anime è stato caricato molto di più io vi ringrazio se vi è piaciuto vi invito a mettere un like condividete il video e attivate la campanellina noi ci vediamo al prossimo